Ambition Music Lolita G sta per Juicy, K sta per Chiave la chiave che aprirà la piattaforma, la mia piattaforma che lanceremo a breve GK vorrebbe delle regole diverse da quelle che comunque oggi attualmente ci vengono imposte svegliare tutte queste anime assopite oramai in qualche modo dormienti, sono dormienti GK è un personaggio di rottura che cercherà di rompere gli schemi ogni qua volta che ce ne sarà bisogno quindi ogni qua volta che ci saranno delle ingiustizie per risvegliare le coscienze sarò sempre presente sul web, sui social mi troverete ovunque, sarà la vostra persecuzione perché non voto? perché, allora, fermo le stando che comunque sono stata sempre una persona che ha votato a un certo punto non ho più creduto sono stanca stanca, arrabbiata delusa in realtà nasce io non voto perché vorrei lanciare il messaggio il messaggio qual è? quello di un cambiamento forte nessuno mi rappresenta nessuno ci rappresenta veramente un'altra provocazione di GK sarà il viaggio per Lampedusa perché io devo capire per quale motivo l'Europa non fa nulla il mio nuovo calendario 2016 come scenario avrà Lampedusa andrò sicuramente a Lampedusa non si sa se ritornerò ma ci andrò e mi sono sempre vista su un gommone calendario GK 2016 il mio corpo come strumento di rottura per combattere l'indifferenza dell'Europa ma tu voti? no bravo